Una sala della Concordia gremita per rendere omaggio ad un uomo che è e sarà sempre l'anima del Centro Sportivo Italiano di Fano. Francesco Paoloni, fanese classe 1966, ha ricevuto sabato scorso il discobolo d'oro al merito 2023, il più alto riconoscimento che l'Associazione di Promozione Sportiva attribuisce a coloro che negli anni hanno promosso e valorizzato gli ideali di una realtà che nel territorio provinciale trasmette sani principi dal 1944. Visibilmente commosso il protagonista della giornata, attirato in sala della Concordia con un tranello da parte di chi, da mesi, era alle prese con l'organizzazione di questa festa sorpresa. Mi avete fatto una gran sorpresa in questo sabato mattina, quindi non ho veramente parole, ma non è un modo di dire, è veramente così perché l'effetto sorpresa è stato talmente grande che ancora mi devo riprendere, perché qui in questa sala ho visto tutte le persone, molte delle persone che mi hanno accompagnato in tutti questi anni e quindi è una cosa veramente bella. Io ho passato nel CSI 40 anni e sembra ieri che avevo iniziato da appena 18enne, forse anche 16enne, a lavorare con il CSI, con i primi tornei al Duomo e alla fine ci siamo ritrovati qua con questa sorpresa. Dire grazie è poco, ma è la roba migliore, diciamo un grazie a caratteri maiuscoli. E viva il CSI che mi ha dato questa possibilità di conoscere amici fantastici e persone favolose. Grazie. A consegnare il discobolo d'oro al vicepresidente CSI è stato direttamente il sindaco Massimo Seri, che ha speso parole d'elogio per il Paoloni sportivo, ma soprattutto per il Paoloni uomo, capace di coinvolgere persone di tutte le età in iniziative di carattere sportivo e sociale. Francesco Paloni è un grande esempio, è una persona di grande valore, ma soprattutto una persona che ha dato se stesso per la comunità, per il CSI, ma per tutti coloro che sono passati attraverso il CSI, ma non si è fermato lì. La sua opera, la sua sensibilità si è estesa anche nella città attraverso tante altre iniziative. Quindi questo momento, questo riconoscimento è un modo per dirgli grazie per tutto quello che ha fatto in questi anni, per l'affetto che ha messo, ma soprattutto per l'esempio che ha dato a tutti noi. Entrato nel dirittivo del CSI nei primi anni 90 e divenuto un elemento cardine, a Paoloni va dato il merito di aver ideato e portato avanti campionati storici come quelli di calcio a 8, calcio a 5 e pallavolo, attivi ormai da oltre 30 anni, ma anche quello di aver avviato tante campagne di sensibilizzazione come quelle in favore della donazione di sangue o per l'allontanamento dei giovani dal fumo e dalle droghe. Ma forse, come ricordato più volte dagli intervenuti, il vero merito di Checco, così come tutti lo chiamano a Fano, è stato quello di aver coinvolto tanti ragazzi che poi hanno seguito il suo esempio, rimanendo fedeli al CSI, come quel Marco Pagnetti, ora presidente provinciale, che insieme a tanti altri collaboratori è alle prese con gli eventi per l'ottantesimo compleanno del comitato. E se il CSI Fano, che era zonale e poi è diventato comitato Pesaro Urbino, è quello che è, il merito è il suo, è di tanti ragazzi che hanno orbitato e lui è riuscito a coinvolgere in questa iniziativa. Sono contento perché iniziamo con questo grande evento, per poi spostarci a luglio con le finale nazionali sport di squadra a Pesaro dal 10 al 14 luglio e poi finire intorno a settembre, i primi di settembre, perché il comitato zonale è nato il 2 settembre del lontano 44, faremo una conferenza, un convegno dove coinvolgeremo diverse realtà territoriali in cui si parla magari di sport, oratori, educazione. Tanti auguri dunque al CSI e congratulazioni a Francesco Checco Paoloni, un uomo che da 40 anni porta avanti degli ideali e che è e sarà sempre l'anima del centro sportivo italiano di Fano.